Avvocato Pinto, in questo 2015 il finance che opportunità offre di business agli studi? Direi che facendo parte di un studio internazionale ho avuto sentore del sviluppo di nuovo del real estate financing e del lending in generale, un mercato che a Londra è decisamente ripartito e che sta ripartendo anche in Italia, quindi direi che il lending sicuramente sarà un lending real estate, il lending M&A sarà sicuramente un mercato da sfruttare, il mercato NPL continuerà a essere molto forte, vedo un pelo in deflessione delle ristrutturazioni, salvo forse ristrutturazioni di operazioni di structure finance che stanno arrivando a maturity in questo periodo, questo è un po' il trend che vedo io. Grazie Avvocato, congratulazioni.